letto e facciamo la nostra maglietta ho saltato il foro ok sono andate direttamente nella nostra maglietta vedete qui poi andiamo nella seconda facciamo la nostra seconda maglietta nella terza facciamo la stessa maglietta vedete così adesso facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 diamo nella maglietta e facciamo la nostra maglietta ok vedete 3 catenelle 1 2 3 diamo nella maglietta qui come sempre e facciamo la nostra maglietta 1 seconda maglietta e la terza maglietta ok adesso se vi ricordate come abbiamo fatto una catenella adesso non facciamo nessuna catena e mandiamo direttamente del maglietta qui vedete che ci sono le tre maglietta qui e facciamo la nostra maglietta poi prendiamo il film direttamente nelle tre magliette la prima maglietta facciamo la maglietta andiamo nella seconda maglietta facciamo la seconda maglietta andiamo nella terza e facciamo una terza maglietta 3 catenelle 1 2 e 3 diamo nella maglietta e facciamo la maglietta 1 2 e 3 diamo nella maglietta vedete ci sono le tre magliette facciamo la nostra maglietta 1 2 e 3 ok questo è il quattro giro ok poi andate direttamente nella maglietta faccio e fate la maglietta poi andate a fare le tre magliette 3 catenelle una maglietta 3 catenelle le tre magliette e così via ci vediamo qui alla fine del quarto giro siamo adesso alla qua la fine del quarto giro facciamo vedete qua c'è il fuori noi lasciamo perdere abbiamo fatto le tre maglietta andiamo direttamente alla maglietta qui ok e facciamo la nostra maglietta andiamo a fare la seconda maglietta e l'ultima maglietta nella terza catenella iniziale ok ok e questo fino da quattro giro vedete come viene così mi si arriccia normale perché deve venire un po ondulata il chiamiamo la stola sciale ora vediamo ok adesso facciamo tre catenelle 1 2 e 3 e giriamo il lavoro ok poi prendiamo il filo adesso state attenti ok perché questa è l'ultima parte del del giro prendiamo il filo andiamo anzi no scusate prendiamo il filo esatto facciamo la seconda maglietta prendiamo il filo andiamo a fare l'altezza matriate vedete sempre le tre magliette iniziale ok adesso prendiamo il filo e andiamo a fare l'altezza vedete che qua ci sono le tre magliette non faccio vedere bene ok dobbiamo andare dobbiamo andare questa ok andiamo nella prima qui e facciamo la nostra maglietta la chiudiamo solo da due e lasciamo nel filo il punto sull'inginetto prendiamo il filo diamo nella seconda vedete maglietta e facciamo si può dire mezza chiusura ok e lasciamo di nuovo il nostro punto sull'uncinetto prendiamo fino andiamo a prendere di nuovo l'ultima maglietta e facciamo la mezza maglietta adesso chiudiamo tutte quattro vedete che sono quattro e chiudiamo ok abbiamo chiuso le nostre quattro magliette vedete da questa che ha preso la dove ci sono le tre magliette le nostre tre magliette sotto vedete così ok adesso facciamo uno prendo bene il filo ok una catenella 2 catenelle attimo andiamo direttamente qui dove abbiamo fatto la maglietta volete qui e facciamo la nostra maglietta ok adesso 1 1 di nuovo rientriamo e ricostruiamo di nuovo come abbiamo fatto prima le sette magliette facciamo 7 magliette 2 di nuovo 34 5 sempre dove c'è la maglietta sottostante 6 e 7 abbiamo ricostruito 7 magliette vedete così adesso di nuovo 2 catenelle 1 e 2 e rifacciamo quello che abbiamo fatto all'inizio qui chiudiamo le maglie ed è però qui e adesso le verranno di più prendiamo il filo diamo nella prima maglietta e chiudiamo metà vedete e lasciamo su un uginetto prendiamo qui diamo nella seconda maglietta e chiudiamo la metà vedete facciamo tipo mezza maglietta e lasciamo sul filo sull'uncinetto il punto di nuovo alla terza maglietta passiamo dove c'è vedete le tre le magliette che abbiamo fatto prendiamo anche questa e facciamo una mezza maglietta e la lasciamo sul filo sull'uncinetto scusa di no prendiamo le faccio prendiamo anche queste tre magliette prendiamo o la prima maglietta e facciamo di nuovo la maglietta vedete così abbiamo fino adesso sei ma sei punti sull'uncinetto prendiamo fila andiamo nell'altra maglietta sottostante vedete qui e facciamo un'altra maglietta mezza maglietta così perché dobbiamo tenerla sull'uncinetto prendiamo il filo e prendiamo l'ultima maglietta vedete qui ok chiudiamo la metà e adesso chiudiamo sono tre 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 quattro cinque sei sette otto chiudiamo tutte le otto insieme piano 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 ok tirato un pochino perché mi verrà difficile se no ok ok vedete abbiamo praticamente chiuso vedete che abbiamo fatto sotto sette magliette 3 1 3 4 5 6 7 abbiamo chiuso quelle sette magliette non metto così ok adesso facciamo due catenelle fatele un po larghe le catenelle come faccio io vedete larghe ok se non mi servisce troppo il lavoro e adesso andiamo qui nella maglietta qui e facciamo le nostre sette magliette ok 1 rientriamo 2 rientriamo 3 rientriamo 4 rientriamo 5 rientriamo 6 rientriamo 7 abbiamo ricostruito vedete adesso che si si fa così ma è normale poi vi faccio vedere vedete abbiamo ricostruito il lavoro chiuso in mente poi un ponticino vedete come viene bello scusate vedete adesso stiamo ricostruendo la parte sotto vedete così ok perché il quinto vuol dire che stiamo facendo come se fosse il primo giro ok noi dobbiamo ripetere dal secondo al quinto giro ok per cui abbiamo fatto le sette magliette adesso facciamo due catenelle fate le larghe detto come faccio io due catenelle così non mi si stringe troppo perché poi vi verrà molto arricciato il video ok e di nuovo dobbiamo richiudere queste sette magliette vedete 3 4 5 6 7 e si fa come prima lasciate tutte fino all'unciletto e chiudete tutta una volta e loro vi faccio vedere di nuovo per cui prendiamo il filo andiamo nella prima maglietta ok e facciamo la nostra ma menza maglia chiamiamo menza maglio ok riprendo il filo andiamo nella seconda ma la pagata e facciamo la nostra mezza maglia ok prende il filo andiamo nella testa ma la festa e facciamo la menza maglietta ok prendiamo filo andiamo nella maglia alta e facciamo la mezza maglia alt sempre lasciando tutte suyll in cinetta come faccio io prendiamo il filo andiamo nell'altra maglia alto sottostante facciamo mezza magliatta le prendiamo al filo andiamo nella maglia sottostante facciamo un'altra maglietta vedete prendiamo il filo andiamo nell'ultima maglietta sottostante facciamo sempre la mezza maglietta e poi chiudiamo tutti insieme vedete così tirato un po perfetto detto come viene bello viene tipo un den un'onda così poi di nuovo fate due magliette larghe vera come ve lo faccio rivedere uno e due belle laghette così non vi sistemi e poi andate qui noi ci sono vedete che ci sono le magliette fatte le sette magliette di non due catenelle poi richiudete così via ok ci vediamo qui finito giro